Bioetica, iniziamo subito proprio con la bioetica, ma esiste ancora l'etica? Beh, hai una domanda interessante, anzitutto perché oggi parlare di etica è un po' come affrontare una sorta di tabù, se vogliamo, la società di oggi vede l'etica come un'astrazione e qualcosa che di fatto non produce, poi in realtà questo si va a scontrare con la quotidianità nel momento in cui ogni singola problematica un po' arriva a far domandare all'uomo domande su di sé, su che cosa è giusto e sbagliato, in fin dei conti affrontiamo scelte quotidianamente. Ecco, infatti l'etica ha implicazione tutto il giorno nella vita quotidiana? Sì, assolutamente, noi siamo creature che hanno una capacità di discernere, di volere e su questo devono fare i conti con questo processo decisionale, con la loro coscienza e non possiamo distaccarsi, faccene e talvolta questo in realtà viene oscurato per interessi diversi, di tipo magari stampo utilitarista, di stampo materialista, visioni del mondo che hanno relativizzato la capacità di vedere un'oggettività su ciò che è bene e ciò che è male. Ecco, bioetica invece è una nuova scienza, una scienza che possiamo dire, più che scienza, anche perché è un dibattito ancora aperto, possiamo definirla disciplina, se vogliamo, nata fra il 70 e il 71 ad opera proprio di un medico, un oncologo che guardando la realtà esterna si è accorto che iniziava ad esserci un problema. Il problema è le scienze che progrediscono e dall'altra parte le scienze della vita, si intende le scienze della salute e dall'altra parte invece le scienze umane che non corrono alla medesima velocità. E dice, qui si sta creando un divario troppo ampio e questo divario ampio rischia di ritorcersi contro l'uomo, l'uomo diventa preda delle sue creature in qualche modo e delle sue creazioni, quindi da un ente che va a servirsi di un oggetto esterno, di una tecnica, delle capacità, delle espressioni, delle sue capacità intellettive, in realtà poi ne diventa schiavo e questo è un grosso pericolo. E quindi Bioetica è nato proprio per cercare di essere costantemente una riflessione che vada ad illuminare questa situazione. All'epoca comunque come oggi c'erano delle difficoltà legate alla sperimentazione, legate a degli abusi in campo clinico, perché? Perché si portava avanti una ricerca che da una parte voleva aiutare l'uomo, quindi era a favore dell'uomo, ma dall'altra parte ne negava una visione che dovesse in qualche modo anche tutelarne la dignità. Oggi questa disciplina è in realtà delle nuove problematiche e le nuove problematiche sono al centro della riflessione di oggi, cioè del transumanesimo e del postumanesimo. In realtà da un lato sono delle problematiche che vengono un po' confinate nel mondo della fantascienza ed è comprensibile, perché toccano l'assurdità sotto certi punti di vista. Dall'altra parte invece c'è un intero panorama scientifico che tende invece a portarle avanti e su questo insomma ad approfondire, a ricercare, a investire su questo tipo di ricerca. Ecco la bioetica è posta di fronte a queste esigenze e queste sfide, una sfida che anzitutto richiama quella che deve essere un focus, se vogliamo, centrale, cioè la dignità dell'uomo. Cercare di cadere nella frammentarietà di una dignità che non può essere frammentata né conferita ma solo riconosciuta rischia di creare un trauma lesivo radicale. Quindi ecco la bioetica ovviamente poi al suo interno come moltissime altre discipline si diversifica secondo modelli, secondo punti di vista fra loro differenti. Quella che riguarda la mia formazione personale è la bioetica personalista, che proprio si presuppone che tenga al centro la persona, i diritti fondamentali e che la tuteli. Chiarissimo, chiarissimo.